Non c'era modo migliore per iniziare questo pomeriggio musicale a questa splendida fiera per noi appassionati discodesi e omaggiando il più grande chitarrista di tutti i tempi, ma non solo, il ciclo che ho portato oggi qui sul palco quando Nicola, anzi voglio un applauso per Nicola, l'organizzatore di discodesse quando Nicola mi chiamò quest'estate e mi disse Carmi, riempitiamoci qualcosa per la nuova fiera che faremo quest'anno e io disse, beh, è doveroso, siamo nel 2010, ricorrono due quarantennali di due morti eccellenti 18 settembre 1970 si sveglieva a Londra Jimi Hendrix, 4 ottobre del 1970 si sveglieva a Los Angeles James Joplin entrambi avevano 27 anni, entrambi con la J avevano i propri iniziari un numero 27 che è quasi maledetto per la storia del rock perché a 27 anni è morto il papà del Bruce Robert Johnson a 27 anni nel 69 morì Brian Johnson mentre il fondatore dei Rolling Stones al 27 anni si è suicidato Carl Cobain e anche quello fu un anno tragico, iniziarono a morire le stelle del rock fino a qualche anno prima la droga serviva, o si pensava servisse per aprire le porte della coscienza William Blake, The Doors, i versi dello sciamano Jim Morrison dal 1969 poi, con la prima morte in luce che Brian Johnson, che venne trovato affogato nella sua vicina a Londra si capisce che la droga può uccidere ma le due morti che fecero più scappore in quel momento furono quella di Jimi Hendrix e subito dopo quella di James Joplin iniziamo questo viaggio omaggiando, e voglio un applauso per loro questa oretta di tributo a Hendrix e James Joplin con me sul palco, alla mia sinistra e alla nostra destra un amico, un grande artista, non ha bisogno di ripresentazioni Lino Veretti degli Osana testimone storico di un'epoca incredibile nonché colui quale ha portato sul palco di Afragone l'edizione fantastica dell'Afragal Rock Festival di una decina di anni fa il bassista dell'Experience Noel Redding iniziamo questo viaggio allora, Hendrix è americano nasce nello stato di Siattolo dalla madre Cerocchi incomincio a suonare nei circuiti di New York si trasferisce prestissimo a New York